Per l'intera mattinata gli avvocati della Camera Penale Vicentina hanno tenuto un banchetto davanti al Tribunale per raccogliere firme a sostegno dei referendum radicali sulla giustizia. Visto che la classe politica si è rivelata incapace di agire efficacemente sulla giustizia, ha detto recentemente il Presidente della Camera Penale, Francesco Barilà, allora è giusto che il tema torni nelle mani dei cittadini con i referendum.